Anche Mazzara del Vallo partecipa alle giornate europee dello scompenso cardiaco, qui a Mazzara si avranno queste iniziative dal 5 al 10 maggio qui in piazza Mocarta, accanto a me il vice sindaco Bonanno, una iniziativa interessante, come mai questo interesse anche per la città di Mazzara? Beh innanzitutto devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e mi riferisco naturalmente alla società europea di cardiologia, hanno collaborato affinché questo evento venisse fatto a Mazzara del Vallo, noi siamo orgogliosi di questo perché questo sta a significare che la città di Mazzara del Vallo è al centro dell'attenzione non soltanto nazionale ma anche europeo. È un evento importante e mi auguro che il prossimo anno questo evento avrà come titolo l'ospedale a Baiello di Mazzara, reparto di cardiologia, perché oggi purtroppo non è così per i motivi che tutti conoscono. Questo è un augurio che faccio a tutti coloro che hanno organizzato questo evento, che serve per fare prevenzione perché la prevenzione è la cosa più importante che c'è per quanto riguarda la sanità. Basta pensare che in Italia ci sono circa 600.000 scompensati che hanno problemi con il cuore, ogni mattina ci sono 500 pazienti che si ricoverano negli ospedali per problemi di scompenso cardiaco, ci sono 150.000 pazienti all'anno in Italia. Facendo prevenzione si attua un duplice obiettivo è quello intanto di risparmiare per quanto riguarda la spesa sanitaria ma soprattutto rendere felici e sani i nostri cittadini. E' bene che queste iniziative passino anche attraverso le scuole ai giovani, portare questo esempio e questo messaggio. A proposito dell'ospedale a Baiello che citava poco fa, che punto sono i lavori, come procedono? I lavori slittano di due mesi per motivi tecnici ma a febbraio dovrebbero essere consegnati, purtroppo ci sono stati degli intoppi, chiamiamoli burocratici per non dire altro, ma a febbraio ci hanno confermato che questo ospedale sarà consegnato. Questo è un auspicio e un augurio per la città di Mazzara del Valle. Noi tutti siamo con il cuore sospeso per questo ospedale, speriamo di raggiungere questo meritato obiettivo e poi far sì che alla luce anche di questi eventi europei, di questi eventi internazionali, E' possibile anche fare dei protocolli d'intesa con degli illustri professori universitari per far sì che l'ospedale di Mazzara abbia una guida scientifica ad alto livello. Accanto a me il cardiologo mazzarese Michele Gabriele, un'iniziativa importante qui su Mazzara del Vallo, informare è il primo passo, essere informati è il primo passo per evitare problemi di scompenso cardiaco. Sì, assolutamente sì, era necessario perché spesso le persone di fronte a una diagnosi di scompenso cardiaco sottovalutano la malattia e invece per noi cardiologi è paragonata a una malattia neoplastica. Era necessario che questa settimana portasse un po' di informazione sia ai pazienti sia ai familiari ma soprattutto di prevenzione ai confronti dei giovani perché è una malattia di evoluzione cronica per cui intervenendo in tempo spesso si evita di arrivare alla fine di questo percorso che poi è un percorso tortuoso. Consideri che in Europa i pazienti ammalati sono circa 14 milioni mentre in Italia si annoverano attorno ad un milione di pazienti i quali spesso vengono riospedalizzati per ricadute. Basterebbe migliorare un po' lo stile di vita correggendo i fattori di rischio, assumendo atteggiamenti di vita salutare per ridurre le riospedalizzazioni, migliorare la qualità di vita e soprattutto ridurre anche la spesa sanitaria. Il gazebo rimarrà qui in piazza Mocarta fino al 10 maggio, di cosa vi occuperete e quali informazioni dare? Sì, fino al 10 maggio si alterneranno sia i colleghi della cardiologia di Mazzara che il gruppo infermieristico che ringrazio anticipatamente, nelle fasce orari che abbiamo il Comune ha già emanato e qui daremo del materiale divulgativo, non facciamo visite perché le visite si fanno negli ambulatori e negli ospedali ma sicuramente saremo molto attenti a dare tutte quelle informazioni necessarie e utili perché vadano a casa con un bagaglio un po' più arricchito in questo senso. Devo comunque ringraziare l'amministrazione e la pressione dell'onorevole Cristaldi perché ha messo a disposizione la città, siamo uno dei 50 comuni italiani che partecipiamo all'evento e caratteristica di questa manifestazione è anche il fatto che bisognava illuminare in rosso uno dei monumenti e il sindaco ha optato per l'arco normano e di questo lo ringrazio. Accanto a me il presidente del consiglio di Mazzara del Vallo, un'iniziativa interessante, si prevede molta partecipazione? Sì, una bellissima iniziativa portata ancora una volta avanti dal dottore Michele Gabriele che ha voluto fortemente insieme all'amministrazione comunale avere questa grandissima manifestazione e noi lo ringraziamo perché servono questa manifestazione appunto per trasmettere alcune notizie che molti cittadini non hanno.